con la grafoterapia si può trovare un senso di benessere corpo mente a partire da esercizi di scrittura esercizi eseguiti normalmente a occhi chiusi con la mano opposta oppure con il testo capovolto questi esercizi stimolano delle parti cerebrali che in genere non utilizziamo nella scrittura normale in genere siamo tranquilli e c'è la nostra personalità diretta espressa nel gesto motorio quindi noi scriviamo per abitudine pensando al concetto più che pensando a come scrivere ma ecco che chiudendo gli occhi si può provare un senso di sgomento la vista non c'è più usiamo di più il tatto aumentiamo ad esempio la pressione scrittoria se cambiamo invece mano scrivente ecco che il nostro concetto di orientamento porta sconcerto c'è una stonatura non abbiamo più quei punti di riferimento di abitudine in quanto dobbiamo muoverci con dei movimenti non consoni a quelli che abbiamo tutti i giorni utilizzato per scrivere sentiamo in questo caso un senso di inadeguatezza di non essere all'altezza della richiesta scrittoria sappiamo scrivere ma non ci riusciamo più così scrivere capovolto può dare un senso di disorientamento perché destra sinistra alto e basso sono completamente da rivedere nella nostra mente possiamo quindi tracciare la firma più volte notando come cambi la pressione la spigolatura l'inclinazione il senso emotivo dei nostri muscoli muscoli addominali muscoli dorsali anche la tensione della mandibola la tensione dei muscoli fini della mano a seconda che scriviamo normalmente oppure a occhi chiusi oppure con la mano opposta o infine in modo capovolto grazie 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 grazie